Buongiorno a tutti appassionati di libri, sono Nicoletta Bortolotti e vi parlo del mio ultimo libro per adulti, il mio romanzo Chiamami sottovoce, questo qui, edito da HarperCollins. Narra la vicenda poco conosciuta dei bambini nascosti, cioè migliaia e migliaia di bambini, figli di genitori italiani e migranti in Svizzera, che negli anni 60, anzi 70 e 80, vissero nascosti in cantine e soffitte perché la legge vietava il ricongiungimento familiare ai nostri emigranti. Pensate un po' che questa vicenda si svolgeva in un passato recente, in un passato prossimo, negli anni 70 e 80. Io nel 1986 facevo la maturità e quindi è una vicenda davvero incredibile che coinvolse migliaia e migliaia di bambini. Dopo la pubblicazione del romanzo mi stanno scrivendo da tutta Italia ex bambini nascosti che raccontano la loro esperienza che diciamo è stata custodita in un'enciclopedia del silenzio che ha attraversato gran parte della storia italiana. Chiamami sottovoce un romanzo, narra la vicenda di una protagonista femminile Nicole che fa ritorno alla propria casa in montagna alla morte della madre in Svizzera dove era stata bambina quando il padre lavorava al traforo del San Gottardo, la galleria più lunga del mondo. Devo dire io sono di origine svizzera quindi il libro si ambienta proprio tra l'Italia e la Svizzera sul confine nei miei posti. Nicole si ricorda di un'amicizia con Michele Moro un bambino che stava in una casa in pietra a fianco alla loro. Nicole si chiede che fine ha fatto Michele, cosa ne è stato di lui? Chiamami sottovoce la storia della sua ricerca. E adesso vi leggo qualche brano. Michele Moro come molti bambini a quell'epoca passa il confine nascosto nel bagagliaio di una Fiat 131. A mano a mano che passava il tempo cominciavo a essere preoccupato. Dove erano andati? E se non fossero più tornati? Se mi avessero lasciato lì per sempre sarei morto di fame e di sete dentro il bagagliaio di una macchina piena di valigie e cose da mangiare. Poi ho sentito dei passi che si avvicinavano ma diversi da quelli dei miei genitori e la voce della guardia che aveva chiesto i documenti a papà. Niente da dichiarare gli ha chiesto una delle due guardie. Niente. Strano io non dovevo mai dire bugie e papà ne aveva appena detta una grande. Poi siamo ripartiti e abbiamo superato la frontiera. Michele arriva nella casa di pietra della fitta camere che ospiterà la famiglia italiana. La fitta camere si chiama Delia Pizzorno ed è un personaggio molto importante nel libro. La mamma mi si è avvicinata sfiorandomi il bordo di un orecchio con il fiato. Mi raccomando Michele ricordati le regole. Nessuno deve sapere che sei qui. Nessuno, capito? Se non fai il bravo viene il poliziotto a prenderti. Ho fatto segno di sì perché volevo che lei fosse contenta di me che pensasse di avere un bambino obbediente che rispettava le regole. Le ho ripetute una per una numerandole con le dita appoggiate sulla spalla di papà. Non devo fare rumore. Ho sollevato il pollice. Non devo piangere. Ho sollevato l'indice. Non devo ridere forte. Ho sollevato il medio ma mi si alzato anche l'anulare. Non riuscivo ancora a muovere il medio e l'anulare separatamente. Dovevo esercitarmi di più. Non devo fare chiasso quando gioco. Bravo, così. Il padre di Nicole lavorava come ingegnere al traforo del San Gottardo alla galleria autostradale. Il padre di Michele lavorava come operaio nella sciolta, nella squadra dei minatori del padre di Nicole. Molti operai italiani persero la vita nella costruzione della galleria che abbatté davvero i confini a colpi di dinamite, i confini nella roccia tra il nord Europa e il sud Europa. Questa è la voce narrante di Nicole. Quando ero piccola immaginavo papà insieme ai suoi operai spingere, forare, frantumare, bucare, rinforzare, deformare. Li immaginavo inocularsi nel San Gottardo come una verruca nella carne viva della roccia e ringraziavo Dio di essere nata femmina per non dover mai fare quel lavoro. Papà si introduceva nell'immensità compatta, ritagliata in un vuoto bidimensionale e sopra un trenino sbilenco si prendeva la sua terra. I diversi strati di materiale segnavano le ere geologiche e ogni sasso strappato al massiccio conteneva la storia del mondo. Michele. Ogni supereroe sapeva che se voleva tornare a casa la sera dopo la missione sano e salvo e non con un braccio e una gamba fratturati che poi lo rimandavano a casa doveva fare tutto quello che diceva l'ingegnere con la massima attenzione. Regole per un supereroe della montagna, controllare che la torcia del casco non abbia le pile scariche, controllare che la tuta non abbia le bande rinfrangenti sporche, imparare che in quel buco più nero del caffè che si beve il diavolo i pericoli maggiori non sono i crolli improvvisi, non sono le infiltrazioni d'acqua, non sono i gas e i vermi che ti fanno venire le malattie. I pericoli maggiori sono due, non essere visti, non vedere. Chiamami sottovoce è una storia di montagna, di città, è una storia di confini. Non sempre le persone sono la terra in cui nascono ma spesso diventano la terra che abitano. Alcuni luoghi possiedono una voce narrante e più sono estremi più raccontano la caducità. Lo dicevo io non all'accento di qui, l'ho già perso. Se viviamo lontani dal luogo in cui siamo nati la diversa forma che assumono parole, pensieri e gesti ci separa dalle radici, ma le radici ingombranti ci separano a loro volta dalla nuova terra dove ci siamo illusi di reinventarci. Chiamami sottovoce è la storia di migliaia di bambini chiusi in casa, reclusi proprio come siamo noi oggi in quarantena, ma loro a differenza di noi vedevano altri bambini che potevano uscire, che potevano andare a scuola, che potevano giocare nei prati, salire sull'altalena. Chiamami sottovoce è la storia di chi lascia una casa, di chi conquista una casa, di chi perde una casa e di chi sogna una casa. Nicola. Ci sono case in cui il tempo ristagna come un odore che non va più via. Attraversando il corridoio di Deglia Pizzorno affondavo nelle gradazioni aromatiche della sua esistenza, mele cotte, segatura, pulcino, sudore agrodolce che impregna la lana. Michele. Ma poi cos'è una casa? La stanza dove sono nato, la soffitta di Deglia, la dimora azzurra, l'appartamento lussuoso in cui abito adesso, oppure lo sguardo di Nicole, l'odore di Deglia, un giardino di rose dove è posare l'infanzia. Forse una casa non è dove tu sei, ma dove sei tu. Ciao a tutti, ciao. Ciao lettori, sono contentissima se riaprono le librerie, quindi un grande grande augurio a tutti i librai. Ciao.